Peggy 18 Benjamin Travis, 43 anni, supervisore ICA, livello gamma, militare professionista dal 1990 al 1999. Riceve la stella di bronzo, per atti di eroismo durante l'operazione Tempesta nel deserto, nel 1991. Congedato con disonore nel dicembre 1999, in seguito a una serie di operazioni clandestine non autorizzate. Riceve l'indulto grazie a un intervento di tipo 6 della ICA, arruolato nel febbraio 2001. Supera rapidamente le aspettative. Avanza alla squadra di ricognizione. Segnalato per osservazione psichiatrica. Si specializza in lavori sporchi ad alto impatto. Dimostra capacità di leadership, e innovazione. Gestisce e manipola il teatro del conflitto, con talento e naturalezza. Progetto a svariati programmi e iniziative dell'agenzia. Promosso, livello tetra. Osservazione psichiatrica conclusa. Scelto per rimpiazzare Diana Bornud, come supervisore di un agente ICA. Nome in codice. 47. 47. No, no, no.